Domenica 8 gennaio, buonasera a tutti da ETG Emilia Romagna, l'orgoglio di essere italiani in questo luogo che vide la nascita del tricolore Areggio, trova nuovo alimento. Queste sono sostanzialmente le ultime parole, l'ultimo messaggio lasciato dal Presidente del Consiglio Monti che ieri ha visitato la città di Reggio Emilia in occasione del 215esimo anniversario del primo tricolore, è stata sostanzialmente la prima visita ufficiale in una città italiana dopo il nuovo incarico di Premier per Mario Monti, prima di lasciare la sala del tricolore, recarsi al Teatro Valli, ieri il Presidente del Consiglio a Reggio per partecipare alla giornata nazionale della bandiera, il 215esimo anniversario del primo tricolore ha firmato l'albo d'oro del Comune lasciando un messaggio di ammirazione per la comunità reggiana e sull'orgoglio di essere italiani. Le frasi sono state scritte nella stessa sala del tricolore alla presenza del Sindaco di Reggio Graziano del Rio, Reggio Emilia, prima città italiana che visito nella mia attuale funzione, ha scritto Monti, ha destato in me sentimenti d'ammirazione per lo spirito di comunità che ha sempre animato qui la civile convivenza. L'orgoglio di essere italiani a Reggio trova un nuovo alimento, Reggio che è stata per un giorno la capitale della politica italiana proprio per la visita di Monti che ha avuto oltre a momenti istituzionali anche alcuni momenti di contestazione, una protesta che ha visto sullo stesso piano due forze politiche solitamente molto lontane come Lega Nord e le Fondazione Comunista che hanno accolto il Premier con fischi e cartelli di protesta, li stiamo vedendo proprio in queste immagini. Ma a tenere banco è stata soprattutto la frase del Premier sull'evasione fiscale, ci sono alcuni italiani che mettono le loro mani nelle tasche di altri italiani e sono gli evasori, ha detto il capo del governo promettendo interventi. Oggi un po' tutti i giornali riportavano appunto in prima pagina le parole proprio sul tema dell'evasione fiscale, le parole di Monti a Reggio Emilia. Su questo tema abbiamo sentito oggi il parlamentare del PDL, esperto anche di temi economici, Giuliano Cazzola. Sentiamo. Monti indubbiamente ha ragione quando fa quelle affermazioni, io contesto però un clima che non mi piace, che in qualche modo mette insieme, confonde gli evasori con le persone che hanno un certo benessere economico, anche se questo benessere economico ce lo sono guadagnati con una grande trasparenza fiscale e soprattutto anche con l'espressione di lavoro, di impegno e di talento. Poi voglio anche dire che gli strumenti che usa Equitalia, che usano la guardia di finanza e l'agenzia del territorio, non sono frutto del governo Mutti che non ha ancora fatto tempo a prendere dei provvedimenti di lotta all'evasione, ma sono stati adottati dai governi di centrodestra, dal governo di centrodestra. Quindi credo che la mia parte politica faccia fatica a lamentarsi, ma nello stesso tempo vada riconosciuto anche alla mia parte politica di aver fatto la sua parte nel combattere l'evasione. Mi pare, in termini molto rapidi, che per riuscire a realizzare una politica che incentive la crescita bisogna che in qualche modo si aprano un po' di più i vincoli dell'Unione Europea e su questo terreno sta lavorando Monti. Per quanto riguarda invece il mercato del lavoro, che è l'altra fase di impegno di questa fase 2, bisogna che il governo non pensi di avere un solo compito, quello di mediare tra le diverse componenti del PD e purtroppo il dibattito va in quella direzione, sembra che i Deli abbia soltanto il PD e che il governo debba mettere d'accordo le diverse componenti del PD, anche il PDL per quanto riguarda il mercato del lavoro, l'articolo 18, qualcosa da dire. Per la cronaca andiamo a Modena, si concentrano sull'analisi dei vestiti sequestrati al fratello Michele in carcere da venerdì e sulla ricostruzione balistica della fucilata mortale, le indagini sull'assassinio di Gerardino Di Stasio, elettricista di 44 anni, di luogo sano, di Avellino, trovato senza vita giovedì scorso nella sua abitazione di appalto di Solliera nel modenese. I tecnici dei carabinieri del RIS di Parma dovranno stabilire la natura e l'origine di tracce biologiche sui capi appartenenti al fratello della vittima che nega di essere coinvolto nel delitto sostenendo invece di avere solo spostato il fucile dopo averlo trovato vicino al cadavere, di averlo messo in una rimessa accanto alla casa dove poi lo ha fatto ritrovare i carabinieri. Dai primi riscontri di indagini alla ferita al torace del 44enne provocata dal pallettone sparato è risultata di piccole dimensioni, circostanza che rende plausibile uno sparo da distanza ravvicinata. Inoltre la traiettoria parrebbe piuttosto obliqua rispetto al corpo e sarebbe compatibile con l'ipotesi di un colpo partito durante una collutazione. La vittima si trovava in difficoltà economiche negli ultimi tempi e stava anche provando a superare la dipendenza dall'alcol. La moglie e i figli di 2 e 9 anni erano già tornati a vivere in Meridione. Un'altra notizia di cronaca che arriva dal modenese potrebbe essere stato attratto in un casolare da un uomo e una donna e poi aggredito Paolo Franchini, 72enne, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Baggiovara di Modena e questa è l'ipotesi seguita dai carabinieri prendendo spunto dalla testimonianza di un familiare del rigattiere trovato agonizzante con il cranio fracassato a Marano sul Panaro. Un uomo e una donna si sarebbero infatti presentati nel pomeriggio di venerdì a casa Franchini chiedendo del 72enne per fargli visionare degli oggetti che potevano interessargli. In effetti poco dopo, sempre stando alla testimonianza, il rigattiere è salito a bordo del suo pick up e si è allontanato da casa dando l'impressione di seguire la coppia. Intorno alle 18.30 l'uomo è stato trovato privo di sensi su una strada vicina a un casolare accanto al quale sono state rinvenute tracce di sangue. Cambiamo argomento, è libero, si trova a Tripoli, in Libia, l'imprenditore Giulio Lolli coinvolto, ricorderete, nella truffa, nella vicenda di Rimini Yacht. Di lui si erano perse le tracce da un po' di tempo ma adesso l'Interpol conferma, si trova in libertà in Libia in attesa di un giudizio sull'estradizione da parte della magistratura libica. Vediamo il servizio. È libero e si trova a Tripoli, in Libia, l'imprenditore bolognese Giulio Lolli, ex presidente di Rimini Yacht, al centro di una colossale truffa basata sulla vendita più clienti degli stessi mega yacht di una bancarotta. Lolli è in attesa di un pronunciamento della Suprema Corte libica sulla sua opposizione all'estradizione. L'ho fatto sapere l'Interpol agli investigatori che si occupano delle due inchieste, una della procura di Bologna e l'altra della procura di Rimini. Lolli era finito in carcere vicino a Tripoli dopo essere stato arrestato in seguito a un mandato di arresto internazionale. L'arresto è di un anno fa, a gennaio, dopo otto mesi di latitanza. Poi, qualche tempo dopo lo scoppio della rivolta anti-Ghedafi, Lolli era diventato irreperibile. Le comunicazioni dell'Interpol lo avevano dato per disperso. Ora, la nuova comunicazione, secondo quanto si è appreso, Lolli, dopo essere uscito dal carcere, avrebbe anche partecipato alla rivolta a fianco degli anti-Ghedafi. Parlando con gli amici avrebbe definito un vero inferno il periodo dell'assedio a Tripoli. A questo punto si attende la decisione della Corte Suprema. In Italia Lolli è difeso dall'avvocato Antonio Petroncini. A Tripoli è assistito da un legale libico che si è occupato anche del suo ritorno in libertà, con una procedura che sarebbe simile alla cauzione. Nell'osprezione riminese dell'inchiesta era finita anche la transazione che aveva visto protagonista un Bertram 570, già di proprietà di Flavio Carboni, l'imprenditore coinvolto nell'inchiesta P3, svanito dalle acque della Darsena del porto di Fiumicino nel 2010. Nel filone bolognese c'è l'ipotesi di verifiche fiscali addomesticate da parte della Guardia di Finanza, per le quale i quattro ufficiali delle Fiamme Gialle a fine 2010 finirono pure gli arresti domiciliari. Parliamo ancora purtroppo di truffe ad anziani, un'altra è avvenuta nel bolognese. Uno le ha raccontato di essere un addetto di ERA, l'altro le ha detto di essere un vigile urbano, così due truffatori hanno derubato ieri nel tardo pomeriggio a Bologna una donna di 84 anni, convincendola a consegnare loro circa 2000 euro in contanti. Verso le 18, il finto tecnico con una pettorina arancione ha atteso l'anziana che rientrava sotto casa in via Castelmerlo alla periferia, spiegandone di dover fare dei controlli nell'appartamento per verificare eventuali fughe di gas. La pensionata lo ha fatto entrare, l'uomo armeggiato ai fornelli ha finto di fare delle telefonate distraendola. Nel frattempo dalla porta è rimasta aperta, è entrato anche il complice, ha rovistato in salotto, quindi si è presentato anche lui in cucina con in mano due foto del marito defunto dell'anziana prese dalla sala, dicendo di essere un vigile l'ha convinta che in casa c'erano stati dei ladri e che lui aveva appena recuperato le cornici. Come prova le ha mostrato l'altra stanza a suo quadro, poi le ha detto di dare a lui i soldi per metterli al sicuro. Lei ha preso le banconote da un cassetto e gliele ha date. Più tardi, quando i due ormai erano fuggiti, la pensionata ha chiamato la polizia dall'appartamento, mancavano anche gioielli in oro. Sono stati recuperati dal soccorso alpino tutti e cinque gli escursionisti scivolati mentre tentavano una scalata di una parete ghiacciata sul corno alle scale. Nell'appennino bolognese, il più grave è un cinquantenne, essato con un vericello e portato in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. Non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due feriti sono il figlio dell'uomo di 22 anni e un suo amico, sempre di 22, finiti in condizioni meno serie all'ospedale di Porretta. Gli altri due componenti della spedizione non sono stati coinvolti dalla caduta e sono rientrati a valle in modo autonomo. Nel nostro telegiornale c'è spazio come sempre anche per il teatro. Questa volta parliamo di danza, quella classica, con Giselle che sarà sul palcoscenico dell'Europa Auditorium di Bologna il 10 e 11 gennaio. Vediamo allora le immagini e le interviste di Alessia Salvatore. Al Teatro Europa Auditorium di Bologna il 10 e 11 gennaio torna il balletto, il balletto classico con Giselle e un altro pezzo molto apprezzato dal pubblico. Tu Filippo hai sempre detto a me piace molto il balletto e quando puoi chiaramente lo porti sul tuo palcoscenico con un grande risconto di pubblico. Assolutamente il balletto a Bologna ha una grande tradizione ed è molto amato. Ovviamente abbiamo da sempre puntato oltre al musical anche al teatro classico quindi alla danza classica e anche alla danza contemporanea. In questo caso abbiamo una primaria produzione che è il Russian Classical Theater che interpreterà un bellissimo balletto che è Giselle balletto romantico per Antonomasia, uno dei primi balletti dell'Ottocento che ha questa forte contrapposizione inserita nella storia che vede un primo tempo romantico, onirico se vogliamo, festoso mentre un secondo tempo chiaramente un po' più cupo, più tetro. Filippo secondo te le scuole di ballo dell'est hanno una sensibilità particolare nel portare in scena balletti classici come per l'appunto Giselle? Penso che faccia parte del loro DNA, culturale artistico, appunto questa grande capacità o forse questa grande tradizione legata al balletto soprattutto al balletto classico, infatti i più grandi artisti, i più grandi interpreti sono appunto di estrazione dell'est Europa, principalmente russi. In chiusura i risultati della giornata odierna di calcio, partiamo dalla Serie A, buono il risultato del Bologna che ha battuto il Catania per 2-0, reti di Cherubin e di Vaio, Bologna che si allontana dalla zona pericolosa della classifica, quindi un buon passo in avanti per il rosso-blu, male malissimo invece il Cesena sconfitto per 4-1 dall'Udinese, male era andato anche ieri il Parma battuto dall'Inter, i risultati invece della Lega Pro girone A per ciò che riguarda le squadre della nostra regione tutte molto bene, la Spalla vinta in trasferta 2-1 sul campo del Pisa, Reggiana Pavia 2-1 e il Carpi ha vinto in trasferta sul campo del Tritium per 1-0. Era l'ultima notizia del nostro giornale, mi fermo qui, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata con i programmi di ETV.